domenica 12 maggio festa della madre e ho finito ora la mia camminata sul mare e niente era una occasione è un'occasione per poter augurare una festa della mamma felice a tutti a tutte le mamme del mondo una festa ora ancora sulla spiaggia presto per cui non ci sono molte persone però arriveranno con il loro con la loro cava a loro il loro frigo bar pieno di cervezas pieno di rum pieno di whisky alla fine uno non è che vede molta differenza fra un giorno e un altro vivendo qui alla isla vivendo alla isla e soprattutto vicino al mare la sensazione è quella di vivere in un luogo dove è festa tutto l'anno però oggi è festa in particolare il signore che vende ostre ostras la spiaggia il mare e quindi insomma uno è in festa tutto l'anno però oggi in particolar modo è la festa del pilastro della famiglia il pilastro insostituibile la mamma per cui signore mamme del mondo i miei personalissimi auguri a tutte è un giorno di felicità amore con la vostra famiglia ciao a tutti